Buongiorno Friuli, anche da parte della redazione sportiva, sabato 30 settembre 2017, ultima rassegna del mese di settembre che coinciderà anche con la partita dell'Udinese contro la Sampdoria, settimo turno di campionato, si parlerà nella rassegna stampa come vedremo dai titoli, come abbiamo già intravisto dalla prima pagina, tanto di questa sfida contro la lanciatissima Sampdoria di Giampaolo, però parleremo tanto anche del ritorno della GSA al Carnera, purtroppo non bagnato da un risultato positivo, ma comunque c'è stata ieri grande festa e lo abbiamo visto già con Angela Caino nella prima pagina del Messaggero Veneto, questo Carnera strapieno come ai vecchi tempi, ma una GSA che purtroppo finisce KO, dobbiamo dire che l'atmosfera però è stata davvero eccellente, molto sentito dall'apporto dei tifosi, certo è che Udine si è resa comunque a una delle formazioni che sicuramente, stando anche alle dichiarazioni post partita che sentiremo nel corso della nostra rassegna, ma che sentiremo anche nel corso del nostro speciale, questa sera cura di Francesco Tonizzo, la Fortitudo è una squadra che sicuramente farà da mattatore in questo girone est della Serie A2, però dobbiamo parlare di Udinese Sampdoria e ritorna, secondo il Messaggero Veneto, un vecchio detto di Del Neri, la parola che lo ha un po' contraddistinto nella sua avventura friulana, è ora di sgarfare Udinese, con la Samp non si può sbagliare, dopo una partenza shock, i bianconeri sono chiamati a fare punti, ce lo ricorda anche Massimo Omeroi all'Udinese per dirla alla Del Neri, è tornato il tempo di sgarfare, dopo aver raccolto soli tre punti nelle prime sei giornate, nell'anticipo odierno delle 18, c'è assolutamente da ottenere un risultato positivo per tamponare le moragie di tre sconfitte consecutive e dice sempre Meroi, probabilmente salvare la panchina di un tecnico che comunque poi alla fine non sembra avere tutte queste colpe, ma ripetiamo sempre, comunque come Del Neri sia stato sempre molto diretto a metterci la faccia e a dire che ovviamente quando i risultati non arrivano l'allenatore è giusto che sia in discussione, nel frattempo allenatore che ha annunciato che ci sarà Bizzarri tra i pari rispetto a Roma, ci sarà Fofana per Barak, questo dovrebbe essere l'unico cambio che andrà a operare proprio Gigi Del Neri nella partita contro la Samp non si può fare, ma i precedenti vengono ricordati il più recente, proprio quello finito in rissa con due espulsi Danilo e Muriel, l'1-1 maturato proprio con i gol di Terò su assist di Zapata ai rigori di Muriel, sappiamo tutti come è andato a finire, tra l'altro non ci sarà né Muriel che è stato ceduto né Danilo che è infortunato e vedremo quindi cosa succederà, quel Terò che aveva segnato su assist di Duvan Zapata che oggi gioca dall'altra parte, vi ricordiamo anche per chi verrà allo stadio un appuntamento importantissimo con Gio Bastianich, ospite del Clubhouse, il famosissimo ristoratore che torna in Friuli, torna a Udine viene a vedere la squadra di cui è tifoso e ci sarà modo per stare insieme a questo grande personaggio anche televisivo ovviamente che non ha bisogno di presentazioni in particolare per la partecipazione come giudice a Masterchef in quelle che sono state tutte le sue edizioni e questo avverrà nel prepartita della gara contro la Sampdoria, vi ricordiamo anche un'altra notizia molto bella su cui abbiamo insistito tutta la settimana perché è davvero un gran messaggio da parte dei tifosi, Aucidei, una serata per invertire la rotta e Aucidei porterà 2.500 tifosi in più rispetto al solito che verranno collocati nella curva sud per spingere l'Udinese verso una vittoria che sarebbe importantissima, vedremo poi quali saranno i tre club ad aggiudicarsi il premio, premio che è stato riscosso in settimana dai tifosi che hanno vinto la stagione precedente ovvero un aperitivo proprio allo stadio con i calciatori, ci spostiamo ancora nelle pagine interne sempre tematiche relative a Udinese-Sampdoria, la tematica che veniva accennata prima viene esposta e approfondita nella seconda pagina sportiva, Bibio del Neri, partita fondamentale, lo è per me, lo è per la squadra il tecnico è consapevole che oggi si gioca la conferma sulla panchina, spero solo che i ragazzi vadano in campo con la mente sgombra da paure, questo è l'importante, il punto su cui Del Neri ha focalizzato la sua attenzione è sfuggita via la pagina ma la recuperiamo immediatamente perché stavamo per andare a leggere l'opinione di Bruno Pizzul che nella sua rubrica area di rigore ha detto c'è bisogno di una difesa affidabile perché non dimentichiamo che ci ritroveremo di fronte due ex particolarmente importanti come Quagliarella e Zapata e bisognerà stare attenti ai loro movimenti, alla loro potenza, alla loro purtroppo anche capacità di fare gol in tutte le salse assolutamente. Ci sono anche due notizie prima di tornare sulle parole di Del Neri una, ve l'abbiamo già detta con il nostro box programmazione a Manzano antipasto di Udinese Sampdoria ci sarà la Primavera che gioca proprio con i Blucerchiati, nella foto è stato scelto Nico Garmendia che deve rispondere anche un po' a un momento in cui è stato messo ai margini da Giacomin con le due vittorie consecutive ottenute in Coppa Italia contro il Parma e poi invece contro il Napoli in campionato, poi l'iniziativa oltre 100 ragazzi al Girls Football Open Day questa è ovviamente l'iniziativa di cui dà menzione la pagina del messaggero prima di tornare alle parole di Gigi Del Neri che come al solito ha sottolineato l'importanza del pubblico tasto che al momento è assolutamente piacevole perché non manca mai la spinta contiamo sull'apporto dei tifosi, avremo bisogno di loro e la UC Day sotto questo punto di vista aiuterà molto, la spinta proprio aumenterà, la spinta del pubblico contro la Samp i difetti della Samp ne ha pochi e per fruttarli dovremo mantenere i nervi saldi è uno del Neri assolutamente consapevole della forza della squadra che si ritroverà di fronte non a caso è imbattuta con 11 punti e una gara in meno quindi bisogna stare con le antenne dritte poi c'è Giampaolo che ordina dimentichiamo la vittoria sul Milan, i nostri esami non finiscono mai Milan è già dimenticata, queste le parole del tecnico blocerchiato Marco Giampaolo questa settimana ho lavorato molto sulla testa, dall'approccio mentale alla partita Zapata può essere che cerchi una rivincita, vorrà togliersi qualche etichetta di dosso contro l'Udinese sarà una gara difficilissima perché per loro è da dentro fuori, dovremmo essere attivi mentalmente da subito, d'accordo su tutte le parole e forse non sulla questione Zapata che immaginiamo non abbia sentimenti di rivincita contro Udine, contro Udinese è una piazza con cui si è lasciata sicuramente molto molto bene anche se adesso sta vivendo un'ottima avventura con la Sampdoria, sarà un turno favorevole al Napoli dice l'analisi di Franco Zuccalà perché la Serie A poi scenderà in campo, Napoli che potrà approfittare del turno casalingo contro il Cagliari mentre la Juventus andrà nella Tana dell'Atalanta nel posticipo serale queste le notizie, poi anche le flash con Chiellini che è stato protagonista di un bel gesto, ha devoluto l'1% del suo stipendio alle popolazioni colpite dal maltempo nella sua zona ovviamente di Livorno, poi Sergio Aguero non sarà in campo nella doppia sfida di Champions contro il Napoli perché ieri è stato comunque protagonista di un incidente stradale che ha visto per lui la frattura di alcune costole, questa la notizia su El Kun Aguero e poi ci sarà anche il Watford che alle 16 giocherà in casa del West Bromwich Albion, questo appunto il titolo che riguarda la squadra inglese di scena oggi alle 16 nel pomeriggio assolutamente come abbiamo detto già molto ricco, poi un pomeriggio che culminerà alle 18 con Udinese e Samp, gli ex più attesi, Quagliarella e Zapata attenti a quei due, Fabio e Duvan formano la coppia d'attacco della formazione Ligule e il Panteron dice Pozzo ha fatto poco per tenermi ma se segno non esulto anche se ieri abbiamo analizzato nella trasmissione Giochiamo d'Anticipo che la valutazione fatta da De Laurenti per il giocatore era assolutamente spropositata per quelle che sono le filosofie societarie dell'Udinese ricordiamo che la Sampdoria lo ha portato a casa per un investimento di 21 milioni di euro oltre a più di un milione di ingaggio a stagione quindi diventava difficile trattenerlo a Udine tant'è che la Sampdoria ha potuto procedere a quest'operazione dopo aver comunque fatto cassa con le cessioni di Schick, di Muriel e di Skriniar è stato un anno di cessioni fortunate per la Sampdoria il napoletano tornando a Quagliarella alla Juve è stato un fedelissimo di Del Neri che lo avrebbe riallenato volentieri e verrebbe da dire chi non vorrebbe riallenare Quagliarella che sta vivendo davvero una seconda giovinezza e lo diciamo con tutta la felicità di questo mondo da quando ha soprattutto risolto i suoi problemi extracampo con la ormai purtroppo nota questione che lo ha visto vittima di un pericoloso stalker da quando ha risolto questa situazione è tornato davvero a segnare ritmi invidiabili la speranza è che oggi possa prendersi un turno di riposo non si è preso un turno di riposo da fortitudo che è una signora F dice il messaggero Veneto metà GSA la prima è un KO percentuali di tiro assolutamente da rivedere sempre sotto soltanto una volta si è illusa per il resto è stato un dominio anche se poi nel risultato non è stato così un dominio però è stata una superiorità da parte della fortitudo costante per tutta la partita come vi abbiamo riproposto ieri in differità alle 23 queste alcune scene con i duelli sotto canestro il protagonista Wademan Kendall Dykes osservato dall'ex coach Boniccioli e poi il bellissimo settore D la Curva Ovest che comunque con una coreografia ha accolto i suoi eroi ha riaccolto o meglio è il Carnera che li ha riaccolti è stata davvero una bellissima serata purtroppo non culminata con una vittoria nel catino dei Rizzi un entusiasmo che mancava da troppi anni sempre comunque andando a ricordare quelli che sono stati tanti ringraziamenti alla piazza di Cividale quando si è giocato a Palamarangoni ma non ce ne vogliano questi bellissimi palcoscenici ma avendo anche vissuto il finale di gara lì era una sensazione assolutamente diversa di aria di grande basket che speriamo la GSA possa sfruttare nelle prossime partite anche qui Carnera da brividi e tornano i cori dalla Curva Ovest un sold out con i fiocchi anche gli abbonamenti che come voleva il presidente Pedone sono arrivati sui 1800 davvero tutto molto bene nel general manager Mikalic è mancata fluidità squadra molto contratta questi aspetti negativi colti da Davide che tra l'altro speriamo a breve di riportare ospite nelle nostre trasmissioni per commentare anche questo ritorno grande al Carnera sulle altre c'è stata ieri anche la partita tra Bergamo e Mantova ha vinto Mantova e quindi Bologna che al momento comanda il girone anche se si sono giocate solo due partite ha vinto 67 a 73 tra l'altro invece vi ricordo che il risultato della GSA è stato 71 a 76 il migliore in campo c'erano pochi dubbi Reinveidemann che prende un pieno 7 primo quarto in apnea ma poi si accende nel secondo quarto prende nel mano una squadra che faceva fatica se vogliamo è una piccola cosa negativa che ieri gli Steneti sono andati alla grande Wiedemann e Dijks ma il resto della squadra si è spartita in maniera meno consapevole ai punti questo è stato un motivo toccato nelle interviste post partita anche dal capitano Ferrari altre interviste Pedone semplicemente ammesso loro più forti di noi devo dire grazie però a un grande pubblico il presidente dell'Apu rimarca la serata difficile al tiro dei suoi giocatori l'americano Dijks abbiamo giocato di squadra ma non è bastato è una GSA che comunque sta lavorando anche sulla forma fisica tornerà sicuramente a stare meglio in partita per tutti i 40 minuti ma a proposito di tutte queste tematiche sentiamo cosa come l'ha vista la partita coach Lino Lardo al termine proprio della gara con la Forti Dudo è stato intercettato nella mix zone da Francesco Tonizio sentiamo le sue parole il dato è che loro hanno tirato col 40% da 3 noi con il 15% però credo che meritantemente hanno vinto loro perché hanno sempre tenuto la partita in mano noi abbiamo avuto degli sprazi di difesa importante dove siamo ritornati sotto ma mai siamo riusciti a mettere la testa avanti o effettivamente avere il pallino in mano io penso che l'abbiamo persa in attacco non attaccando bene molto disordinati credo che anche un pizzico d'emozione ci sia stata oggi perché ragazzi comunque tutti sentivamo questa partita e credo che sia anche da sottolineare il fatto che comunque è stata una bella festa e siamo ritornati al Carnera però effettivamente credo che in difesa a sprazi ma poi abbiamo anche fatto delle belle cose in attacco male intanto pensiamo che noi abbiamo giocato effettivamente con una delle favorite perciò c'è da mettere anche conto che oggi abbiamo giocato contro una squadra importante di questo girone, di questa serie ma io direi che è più de merito nostro sinceramente anche se loro hanno fatto una bella partita intensa di contatti come sono abituati loro a giocare perciò sono stati bravi a mantenere una grande intensità credo però che noi potevamo essere in grado di sopperire a questa difesa con un gioco un po' più corale muovendo un po' di più la palla L'ambiente, è entrato al Carnera, l'hai visto pieno? Cosa hai pensato? Era tre anni che aspettavo questo momento da quando siamo arrivati a Udine anche per me è stata una grandissima emozione l'ho visto da quando siamo arrivati alle sette e mezza riempirsi piano piano grande entusiasmo, bello una bella festa devo dire, peccato che l'abbiamo condita con bel risultato ma da qui dobbiamo ripartire e anche attraverso quello che trasmettiamo sul campo anche spingere la gente a venirci a tifare, a vedere perché questo veramente è un bello spettacolo fa bene allo sport E nonostante la sconfitta, tanta voglia già di rivedere sul parquet la GSA lunedì ci sarà anche una partita importantissima il Monday Night che riguarderà il Pordenone facciamo un blitz proprio in Serie C prima di tornare a parlare di Udinese verso la sfida con la Feralpi-Salò c'è Marchi, il grande ex, che vuole cancellare un addio amaro il difensore ritrova ad avversari Ramarri non sono rimasto a Pordenone perché non mi sono sentito valorizzato e quindi di sotterra anche un po' l'ascia di guerra se vogliamo dire così il difensore Marchi che si prepara a questa sfida chi invece non può prepararsi a questa sfida nonostante ci fosse il sentore già di un recupero come abbiamo sentito già in precedenza è Berrettoni che ha detto ci vorranno 10-15 giorni e tornerò al top quindi sta ancora soltanto scaldando il motore il bomber che vuole rivedere il campo ha tanta voglia di tornare a fare gol per il resto, per il momento comunque Pordenone non ha troppi problemi sotto questo punto di vista ma siamo certi che un giocatore come Emanuele Berrettoni possa fare sicuramente molto bene c'è però tutta la rosa a disposizione Colucci che ha tantissime alternative nell'ultima gara contro il Teramo ha comunque fatto toccare con mano la profondità della rosa con la doppietta di danza lanciato praticamente quasi a sorpresa nell'undici iniziale questo ci fa capire che ci potranno essere anche qualche cambiamento nella formazione iniziale per la sfida alla Feralpi Salò che è avversario assolutamente di tutto rispetto che bisogna prendere con tutte le cautele del caso perché non sarà semplice c'è poi il Gazzettino che torna a parlare di Udinese ma prima completiamo giustamente anche il discorso sul Pordenone per vedere come lo analizza il Gazzettino Berrettoni rinvia in ritiro appunto sono stati quattro mesi complicati il Beniamino dei tifosi neroverdi ammette non sono pronto mi servono altri dieci giorni e quindi non parteciperà alla sfida con la Feralpi Salò vi ricordo che tra l'altro ci sarà la diretta di Rai Sport alle 20.45 essendo Monday Night o posticipo del lunedì sera per dirlo alla italiana una grande sfida la Feralpi ha speso tanto per gente di categoria quindi questo è anche il pensiero di Berrettoni che poi parla del gruppo ai nuovi arrivati abbiamo fatto capire chi siamo, cosa vogliamo fare e immaginiamo anche dove vogliono arrivare con questo super inizio di campionato ancora Berrettoni quando affrontano la capolista gli avversari raddoppiano le loro energie noi dobbiamo essere superiori anche a questo raddoppiamento appunto delle energie siamo sicuri che comunque la squadra di Colucci non si farà trovare impreparata adesso sì, torniamo a parlare di Udinese prima di spostarci sulle prime della stampa nazionale c'è un del neri perplesso Udinese, non puoi sbagliare perché contro la Sampdoria dice il gazzettino del neri si gioca la panchina e la squadra ha la possibilità di smuovere la classifica il tecnico è stato chiaro in conferenza stampa ha detto che il ritiro è servito serve concentrazione e il sostegno dei tifosi per poter conquistare la vittoria questo ha detto proprio Gigi del Neri che nel centrocampo a tre rilancerà Fofanà che troverà posto rilevando la maglia di Barak per il tecnico al momento Fofanà è una maggiore garanzia in questa gara che abbiamo definito spartiacque poi anche ancora le parole di Zapata che dice avrei voluto rimanere in Friuli ma questa cosa non è potuta accadere adesso dovrà affrontare l'Udinese da avversario nella partita in cui del neri si gioca tanto come abbiamo detto dentro o fuori se l'Udinese sconfigge la Sampdoria anche se pareggia evidenziando progressi sul piano dell'organizzazione del neri salverà la panchina questo ha detto sempre proprio il gazzettino ma i bianconeri comunque sono pronti a dare battaglia ieri in conferenza del neri ha dato sicuramente tantissime tanti segnali alla squadra che non si può sbagliare che il ritiro ha fatto bene abbiamo riassunto un po' le sue impressioni in una stralcia della conferenza lo andiamo a sentire e poi ci trasferiamo sulle prime pagine dei quotidiani nazionali ma prima del neri non serve che questa parla di mostri l'ha già dimostrato non è che serva che venga qua a dire che sono qua mi sembra che sia stato presente molto l'anno scorso a darci una mano per il campionato e mi sembra che quest'anno qua stia dimostrando che non ci eravamo sbagliati sulle sue qualità di giocatore e anche di persona importante per quello che posso averlo conosciuto io in quegli otto mesi quindi mi sembra che siano due punti che si completano la vicenda giocatore di grande forza giocatore di grande qualità di grande esperienza sarà un bel banco di prova anche per la mia difesa che deve essere concentrata deve essere orgogliosa e sapere che affronta due attaccanti importanti poi hanno Ramirez hanno giocatori che possono fare la differenza hanno Barreto hanno Praet hanno Torreira che è un altro giocatore mi contiamo di riprendere il nostro cammino con la prestazione che ci faccia dire che siamo sulla strada giusta dobbiamo avere i nervi saldi la forza delle proprie idee e andare avanti e giocarci la partita per tutti i cento minuti poi dopo la fine noi contiamo di fare quello che riteniamo sia nostro dovere per raggiungere il massimo degli obiettivi poi sappiamo anche che è una partita delicata da prendere con le mole per tutti i 90 minuti di aggiornare con grande attenzione con grande applicazione cercando nei momenti importanti di avere questa questa forza di sfruttare quelle che sono magari anche le loro così difficoltà in qualche fase della partita tutti sono utili in questo momento per dare una mano a una situazione di cui noi abbiamo le qualità per venire fuori sì sì ma è importante io ti ho sempre detto che il rapporto tifoseria giocatori è molto importante è chiaro dovremmo essere noi a portarli a darci una mano importante ma loro penso domani abbiano capito il momento di difficoltà che stiamo attraversando e ci daranno sicuramente una grande mano per quello che è il sviluppo della nostra applicazione sul campo e la nostra voglia di far vedere cose buone contiamoci di loro chiaramente perché ho sempre detto anche gli anni che hanno passato quest'anno all'inizio che questo binomio è quello che si deve dare forza per andare avanti anche Del Neri si è soffermato sull'apporto dei tifosi e su questa simbiosi che deve esserci tra loro e la squadra chi ha sempre avuto un grande rapporto con i tifosi è Marco Materazzi che alla gazzetta dice Intermia sei da Champions l'ex campione del mondo 2006 dalla carica al club con cui ha vinto il triplete Spalletti Sarto Giusto per una squadra che non molla mai Scrinier dovrebbe usare di più dice Materazzi consiglio da collega sondaggio gazzetta i tifosi si fidano Nerazzurri fra le quattro crisi Milan breve Milan che tornerà a fare bene poi Silva che cresce e fa sempre gol vicino a Kalinic contro la Roma questo è un interrogativo che si pone la gazzetta in questo caso ci sarebbe un'esclusione clamorosa di Suso Gomez che sfida con Dybala e alla fine gli chiedo la maglia questo ha detto il papo Gomez che è sempre ovviamente molto divertente curva Juventus e i perché della sentenza vi ricordiamo che su questa questione è stato inibito per 30 mesi Agnelli numero uno proprio della Juventus sono delle sicuramente notizie che riguardano la giustizia sportiva e che verranno approfondite nel corso proprio degli eventi San Paudine Genova Test Bologna questi sono gli anticipi di oggi senza grandissimi big match ma gli occhi saranno puntati proprio su Udinese e Sampdoria il big match arriverà domani alle ore 18 perché c'è Milan-Roma e poi alle 20.45 c'è Atalanta Juventus Totti resta magico perché a Tbilisi la capitale della Georgia l'applaude nella notte di stelle tutti a Tbilisi da sinistra Rivaldo Toni del Vecchio e Totti con l'ex romanista in campo pure Maldini Rivaldo Shechenko e Tony davvero una parata di stelle in cui Totti come al solito ha fatto il campione ma d'altronde era quello che si era ritirato da meno tempo poi la classe non tramonta mai nei piedi del numero 10 l'America's Cup veste Prada Bertelli sarà anche lo sponsor delle selezioni presentata a Oakland l'edizione numero 36 che si darà nel 2021 in Nuova Zelanda questo per quanto riguarda la gazzetta dello sport scendendo e scivolando un po' nelle pagine interne si parla ovviamente anche di Udinese Samp che è il primo anticipo della giornata che punta su un'altra tematica l'allievo contro il maestro Giampaolo che sfida Del Neri con la coppia di ex Udinese Samp alle 18 apre la settima giornata il tecnico blu cerchiato punta su Quagliarella e Zapata Gigi rischia la panchina e il calcio dice il collega finora sono stati 6 i gol della coppia Quagliarella Zapata 4 in 5 gare per Quagliarella 2 in 3 per appunto per Zapata c'è tra l'altro una presenza che non ci fa piacere ma che speriamo possa ribaltare nella rubrica fantacalcio Maxi Lopez che è nei 5 rischia tutto rispetto alle 5 sicurezze che vengono elencate ma siamo certi che sta lì pronto Maxi a trovare il suo primo gol dell'avventura bianconera sarebbe sicuramente un'ottima occasione questo pomeriggio e poi ci sono le parole di Calazze che proprio da Tbilisi lancia un messaggio con i grandi ex rossoneri per tornare ai vincenti il Milan deve prendere Ancelotti questa proprio l'ipotesi il pensiero di Cacca Calazze chissà che non succeda perché già più di qualcuno sta pensando a questa alternativa dopo l'esonero di Ancelotti dal Bayern poi la 2x2 di Walter Ventroni con Immobile fidatevi di Ventura il CT serve tempo vedrete andremo ai mondiali non ha dubbi il bomber della Lazio l'unico che finora sta tenendo i ritmi pazzeschi di Bala Juve Chiellini a quota 440 nella top 10 dei bianconeri più presente ricordiamo anche la bella notizia di beneficenza con Chiellini che ha devoluto parte del suo stipendio in beneficenza e ha fatto sicuramente un bel gesto Milito esalta Icardi e l'Inter lotteranno per lo scudetto poi si parla del cuore salernitana sotto per 2-0 a Parma rimontato 2-2 Parma che ha chiuso addirittura in 9 uomini e poi Formula 1 Seb velocissimo alle 11 la pole quindi poi ci avrete tutti gli aggiornamenti nel corso della mattinata chiudiamo con tutto sport che parla del protagonista che non ti aspetti Bentancur il giovane centrocampista della Juve ecco perché si è preso la Juve Bentancur a qualità da predestinato dice nell'analisi Filippo Cornacchia Schelotto che lo ha allenato al Boca ci svela i segreti del centrocampista uruguaiano personalità intelligenza talento Pogba sudamericano sì tra un anno il paragone già potrà starci poi Toro Cairo spinge Niang l'ho pagato caro ma vedrete quanto è forte soprattutto Mijajlovic crede tanto in lui Teodor Sikvale la parola di Zibi Boniek e poi le altre notizie si parte con l'alta tensione Bonucci troppi errori cresce il malumore tra i tifosi e nello spogliatoio Milan ha sempre difficoltà un po' ad integrarsi con i dispogliatori in questo caso Leonardo Bonucci come è successo dopo qualche lita alla Juventus non sembra andare benissimo l'inizio dell'avventura al Milan Chaos Genoa minacciato preziosi e Juric già traballa poi Vetter che vola sul bagnato ma anche senza pioggia dice Seb sarei andato forte e poi le parole di Vujacic che ha detto sono a Torino per scrivere la storia parliamo ovviamente di basket abbiamo parlato tanto di basket ma di calcio anche in questa rassegna stampa sportiva vi ricordo il doppio Udinese Sampdoria di quest'oggi personalmente vi aspetto da Manzano insieme a Gianluca Lena per il commento della partita di campionato primavera 1 team tra Udinese e Samp subito dopo inizierà lo studio stadio con Massimo Campazzo dice Matteloni tutti gli ospiti e i collegamenti alla Dacia Arena per la partita di Serie A quindi rimanete con noi sarà un pomeriggio lungo Enrico sempre qui su Dinese TV sì sì effettivamente è un momento importante a è un momento importante